Alla raga, battiamo la Fiorentina 2-1 e approdiamo alle semifinali dove giocheremo contro il Napoli partita bene, è andata bene alla fine, dai un risultato che ci vuole in questo momento assolutamente per riguadagnare fiducia abbiamo cominciato un po' con tratti, un po' male, un primo tempo sinceramente è stato un po' da sbadigli ma sul finire fortunatamente la sblocchiamo in mischia con Candreva e quindi andiamo all'intervallo in vantaggio 1-0 partiti molto bene invece nel secondo tempo, belle le iniziative, siamo arrivati spesso a sfiorare il secondo gol almeno 2-3 volte con occasioni potenziali, non clamorose ma potenziali occasioni per fare il secondo gol poi ovviamente noi siamo l'Inter quindi segnare il secondo gol sarebbe una cosa troppo borghese preferiamo ovviamente farci pareggiare dalla Fiorentina su calcio d'angolo che ci dà sicuramente molto più gusto a tutti noi tifosi interisti, tra l'altro pareggio dalla Fiorentina un po' dubbio secondo me perché Caceres è vero che Lautaro non salta però Caceres si arrampica letteralmente sopra la schiena di Lautaro come una carogna sulla schiena quindi anche se avesse voluto saltare Lautaro non avrebbe potuto secondo me non era tanto regolare comunque facciamo finta di niente e tiriamo avanti perché per fortuna un barella spettacolare si inventa un gol da fuori area di controbalzo che è una meraviglia guarda un bijou, un cioccolatino gli ha messo lì nell'angolino proprio spettacolare in quel momento era entrato da pochissimo Eriksen che ha fatto il suo esordio entrando al posto di un Sanchez che ancora purtroppo non carbura prendiamo di buono il fatto che all'Inter dopo anni a cambiare Schielotto con Gargano o Mudingai con Sticazzi cambiamo Eriksen mettiamo Eriksen al posto di Alexis Sanchez e quindi è un segno che le cose stanno migliorando e nettamente a livello di qualità tra l'altro è entrato anche Moses dopo che sinceramente non si è visto quasi per niente all'esordio poco e niente invece Young si conferma da titolare si conferma delle prestazioni solide e consistenti buone, passo rapido, mi piace come sta giocando e ha già una ottima tenuta fisica visto che è la seconda che gioca interamente quindi va bene così Eriksen ci mette in mostra i primi lampetti c'è stato un bel filtrante per Lautaro c'è stato anche un tiro da fuori un po' moscio ma sicuramente si vede che può dare grande controllo alla squadra lui ci può permettere di dominare di più le partite e poi in una parola sola ragazzi è uno che c'è è qualità Eriksen uguale qualità se c'è una cosa da pensare in campo quando pensi ti manca la qualità con Eriksen non possiamo dire che ci manchi la qualità perché è un giocatore fantastico a livello tecnico e molto intelligente anche tatticamente perché uno che in Inghilterra è quello che crea più occasioni di tutti da 4-5 anni anche più di Mesut Ozil che è uno che durante la partita Ozil non fa un cazzo pensa solamente offensivamente a livello difensivo lui non lavora Eriksen lo sorpassa nonostante faccia anche un buon niente di azionale ma un buon lavoro anche difensivo che fa ben sperare Molto bella ci tengo a sottolineare anche la prestazione di Vecino che esce bene dal turbilion di mercato ma Vecino sappiamo che è un buon giocatore che può essere una buona riserva perché all'Inter deve essere una riserva non deve essere titolare è quello il problema che viene fuori 3-4-1-2 oggi di Conte soluzione che mi sento di condividere interessante provarla ci sta ovviamente sicuramente ritorneremo al 3-5-2 con rientro di Brozovic perché Brozovic e Barella sono due che devono giocare e penso che nel campionato andrà più sul 3-5-2 mettendo Eriksen un po' più da mezzala comunque alla fine è questione di 10 metri di posizione ragazzi è il numero 3-4-1-2 o 3-5-2 cioè o fai l'interno sinistro hai dei compiti più di copertura anche sulla fascia per andare a coprire i raddoppi a scalate sulla fascia dell'uomo di fascia però alla fine se vuoi fare il trequartista lo fai anche come ha fatto Sensi che tante volte si è trovato in appoggio a fare il trequartista e partiva da interno sinistro quindi sono numeri che cambiano poco l'importante è mettere dentro la qualità i giocatori forti in campo che poi quando sono forti il posto lo trovi oggi abbiamo ottenuto il pallino del gioco un bel 65% di possesso palla 17 tiri 9 corner abbiamo avuto il controllo della partita e questo ci ha permesso anche di avere una gestione più serena nel finale di partita perché eravamo noi a controllare la palla eravamo noi che avevamo risparmiato energie perché quando la palla ce l'hai tu sono gli altri che devono sudare per riprendersela bene così ragazzi adesso andiamo sotto con le semifinali con Napoli poi si va ad Udine vediamo di dare continuità giornata positiva alla grande per la mia Inter e per finire un pensiero volevo dedicare molto umilmente a Kobe Bryant addio campione la leggenda del Mamba però non morirà mai rest in peace grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti